stanno riparando stanno riparando io mi sono lamentato mi sono lamentato e qua stanno riasfaltando per circa quanto una settimana è rimasto tutto il brecciolino e vabbè meglio tardi che mai e allora niente l'altro giorno mi lamentavo qui l'asfalto dopo i lavori è stato sistemato ogni tanto non metto a fuoco ma non capisco perché comunque è stato sistemato però quei giorni col proverlazzo con il brecciolino piedi piedi i due ruote rischiavano parecchio fatimonelli ciao ciao e sì però lo stesso giorno siccome qui siamo in via guglielmo o berdan è meno importante forse della via umberto i lavori non sono stati fatti ancora